Sentiamo le loro voce e per un po' sentiamo meno la malinconia della solitudine. È tranquilla la signora Paola, dice che anche solo sentendo la voce dei propri cari c'è meno malinconia. La tecnologia viene in soccorso suo e degli altri ospiti della casa di riposo della Fondazione Monsignor Alessandro Marangoni, che possono accedere alle videochiamate, semplici da realizzare grazie all'aiuto degli operatori, per sentire e vedere i propri cari, in attesa di potersi di nuovo incontrare, si spera presto, di persona. Direi assolutamente in modo comprensivo e dimostrando una grande resilienza. D'altra parte loro sono persone che hanno vissuto ben altre limitazioni in passato, per cui la prendono meglio loro che noi lavoratori, i parenti e i visitatori. Una riorganizzazione particolare in questo periodo è la Casa di Cologno Leicolli, che ha escluso totalmente le visite dall'esterno. Abbiamo cercato di capire anche quanto è cambiato per il personale. Per il personale fondamentalmente mi viene da dire poco, nel senso che questo allerta è scattato in un momento in cui noi eravamo già in allarme per un'influenza ordinaria, per cui indassavamo già di default la mascherina per evitare contagi di un'influenza ordinaria, per cui abbiamo proseguito sull'onda. Il limite adesso forse è più legato alla gestione dei DP, perché sul mercato ce ne sono pochissimi e quindi abbiamo iniziato per esempio a sterilizzare le mascherine che dopo qualche giorno andrebbero buttate. Sono 60 i posti letti in questa realtà che sta cercando, sempre grazie ai social network, di far uscire almeno virtualmente gli ospiti. Noi siamo una struttura ben orchestrata, ma a volte partiamo col jazz dell'improvvisazione, per cui ci stiamo lavorando con gli educatori e con gli altri lavoratori per creare qualcosa di rasserenante per le persone a casa che non possono venire a visitare delle dirette Facebook durante le attività, piuttosto che messaggi al mondo in senso positivo.